Tanta barbarie ci lascia e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia, ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffirmare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. La follia dello Stato islamico si è abbattuta ancora una volta sulla Francia e il mondo ha assistito attonito e inorridito all'ennesima strage di innocenti. La sera del 13 novembre gli integralisti dell'IS hanno compiuto una serie di attentati a Parigi che ha causato la morte di oltre 120 persone. Il mondo si è tinto dei colori della Francia, rosso, bianco e blu, in un abbraccio senza distinzione di credo, in un silenzio commosso per una strage che non trova spiegazione o giustificazioni. Con noi il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin e l'imam Izzedin El Zir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Siamo vicini in maniera particolare alle famiglie delle vittime e preghiamo per quanti sono stati trucidati in quei fatti. Nello stesso tempo credo che con il Papa dobbiamo ripetere che la violenza fatta in nome di Dio è una bestemmia e insistere anche sull'altro concetto che il Papa ha espresso in questi giorni e cioè che l'odio e la violenza non portano a nulla. Che l'odio e la violenza soltanto peggiorano le situazioni e non costruiscono nulla di buono, non costruiscono un futuro più giusto e più solidale. Chi usa il nome di Dio o della sua fede religiosa in vano è una bestemmia verso la sua fede e verso il Signore perché la parola del Signore è pace, è convivenza, è armonia, non è violenza o criminalità. Realmente abbiamo tutti quanti bisogno di rafforzare questo dialogo perché purtroppo i pregiudizi sono altissimi e dobbiamo lavorare insieme per cercare di diminuire, addirittura cancellare questi pregiudizi per costruire non dico solo un futuro migliore ma anche un presente migliore e allora a questo punto qui possiamo dare tutti quanti noi una mano a avere una speranza per un futuro migliore. Nonostante lo stato di allerta, la Sala Stampa Vaticana ha confermato che il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco avrà luogo come da programma e che sarà vissuto nella ricerca della pace tra i popoli senza lasciarsi rubare la speranza. Questo concetto della misericordia è un concetto trasversale di tutte le religioni nelle quali possiamo ritrovarci. Ora se è vero che Dio è misericordioso e ha esercitato, esercita continuamente misericordia cioè perdono e amore nei nostri confronti questo non può non tradursi anche in un atteggiamento uguale da parte nostra nei confronti dei nostri simili. Quindi quando diciamo che Dio è misericordioso inevitabilmente dobbiamo concludere che noi dobbiamo essere misericordiosi nei confronti dei nostri fratelli ed essere misericordiosi vuol dire amarli, vuol dire rispettarli, vuol dire valorizzarli e mai ucciderli e sopprimerli.